Oggi affrontiamo la narrativa delle armi difensive e delle armi offensive da fornire all'Ucraina, una narrativa che nelle ultime due settimane in Italia ha creato anche un acceso dibattito politico. Tale narrativa risulta del tutto pretestuosa e anche priva di ogni fondamento logico. Un piccolo esempio ci potrà aiutare anche in questo caso a capire la mancanza di logicità di questa narrativa. Proviamo a pensare ad esempio alla pistola nella fondina di un poliziotto. Ovviamente quest'arma sarà ritenuta un'arma difensiva, ma se la stessa arma noi la troviamo in mano a un rapinatore all'interno di una banca potremmo ancora definirla un'arma difensiva? No, a questo punto sarà un'arma offensiva. Oltretutto se noi ragioniamo sulla Costituzione italiana, l'articolo 11, dove l'Italia ripudia la guerra per l'estrumento di offesa, dovremmo pensare che i tank che noi abbiamo sono illegali se li consideriamo delle armi offensive. Ovviamente la polemica è una polemica sterile, perché non si tratta se un'arma è offensiva o difensiva, può essere utilizzata in entrambi i casi. Sostenere che non bisogna armare l'Ucraina è come sostenere che non bisogna dare a una donna lo spray peperoncino per proteggersi da un'aggressione di un violentatore. Così come, ad esempio, suggerire di arrendersi equivale a dire a una donna che viene violentata non reagire perché magari se reagisci ti potrebbe anche picchiare, oppure potrebbe scegliere anche di violentare me, quindi è meglio che violenti solo te. Va da sé che questo ragionamento è del tutto immorale. Grazie.